Questo video riguarda i migliori tre calcolatrici scientifiche. Il vincitore della qualità nel nostro calcolatrici scientifiche va al Casio FX-991X. La Casio Classways FX-991X è dotata di oltre 550 funzioni progettate ad hoc per la scuola secondaria di secondo grado. Dispone inoltre di foglio di calcolo, codice QR e natural display. La calcolatrice scientifica Casio Classways FX-991X è dotata della funzione codice QR che permette di trasferire tramite la scansione del QR i dati al PC. Foglio di calcolo. Ideale per studiare la statistica composto da 5 colonne e 45 righe per un massimo di 170 dati. La calcolatrice scientifica Casio Classways FX-991X è l'ideale anche lo studio di funzioni matematiche avanzate, inclusa la matrice 4 asterisco 4. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Zootop Calcolatrice. Questa calcolatrice è combinata con una lavagna per scrivere LCD. Con la penna stilo dietro la lavagna, puoi calcolarlo e registrarlo molto facilmente. Questa calcolatrice da tavolo supporta calcoli con un massimo di 10 cifre, i dati sono chiari e facili da leggere, adatti a avanzati e principianti. Con questa calcolatrice scientifica 2 in 1, puoi calcolare e registrare in qualsiasi momento, puoi anche metterla come blocco note quando non usi la calcolatrice. Questa calcolatrice per la scrittura a mano è solo 120 grammi, leggera e dal design a conchiglia, facile da trasportare. Dimensioni del prodotto 160x78x12,8 mm. Puoi portarlo in borsa, in tasca o anche in borsa, perfetto per l'ufficio, l'aula e l'uso domestico. Due batterie a bottone integrate, uno batteria LR1120 per calcolatrice, uno batteria CR1220 per tablet da scrittura LCD, puoi essere sostituita in qualsiasi momento senza installazione di viti, non preoccuparti più della batteria che muore. La tastiera della nostra calcolatrice è realizzata in materiale siliconico, tasti soft touch, silenziosa e priva di rumore. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium nel calcolatrice scientifica è il Casio FX570ES, Il display naturale mostra le espressioni matematiche come le radici e le frazioni in cui appaiono nel vostro libro di testo, e questo aumenta la comprensione, perché i risultati sono più facili da capire. Display dot matrix. Risoluzione di equazioni. Calcolo con numeri complessi. Calcolo matrici, vettori. Integrale numerico e calcolo differenziale. Tabella funzioni. Alimentazione a batteria. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.